pace bene cari fratelli e sorelle bentrovati battesimo di nostro signore gesù cristo testo immenso che sintetizza l'intero vangelo dal quale vogliamo cogliere due spunti primo lo stile di dio secondo e riscoprire la grazia del nostro battesimo giovanni sta battezzando il suo era un rito di penitenza che significava il desiderio di convertirsi di cambiare vita tra i tanti peccatori in fila ad un certo punto ecco gesù come si presenta dio come un uomo qualsiasi si chiama gesù nome comune all'epoca che vuol dire dio salva sappiamo che faceva il carpentiere un lavoro che in genere facevano famiglie medio povere che non avevano terra di proprietà un uomo che viene da una città qualsiasi natanaele dirà può venire qualcosa di buono da nazareth un uomo che ha vissuto per 30 anni una vita semplice nascosta ordinaria fatta di preghiera di lavoro di studio di famiglia questo ci svela la grandezza del nostro quotidiano la sua importanza agli occhi di dio dio ha voluto santificare la vita di ogni giorno per dirci che la vita di ogni giorno è preziosa dal gesto più semplice nascosto ciò che conta non è la visibilità che abbiamo l'altisonanza di ciò che facciamo ma l'amore che mettiamo in ciò che facciamo e soprattutto per chi viviamo quindi gesù non si presenta come un uomo ricco potente che viene da una famiglia aristocratica o dalla classe sacerdotale ne proviene da una università famosa potremmo dire che dio si presenta come uno degli ultimi perché tutti possiamo sentirlo nostro fratello la sua scelta è di essere del tutto simile a noi attenti non simile a noi per alcune qualità magari altisonanti che distinguono dagli altri noi amiamo distinguerci sentirci magari meglio al di sopra no dio si fa uno di noi in tutto e per tutto eccetto nel peccato è impressionante mentre noi passiamo la vita sperando di essere altro dio si fa come noi questo parla al nostro cuore miei cari dio si fa nostro fratello perché possiamo anche riconciliarci con il limite con i nostri limiti imparando a farne punti di contatto con dio e con gli altri e riscoprendoci bisognosi gli uni degli altri nessuno è un assoluto ma tutti siamo amati in modo assoluto quante volte passiamo la vita cercando di negare a noi stessi e agli altri i nostri limiti o cercando di identificarci soltanto con ciò che ci riesce con ciò che di noi ci sembra più apprezzabile ed evidente peggio ancora quando usiamo le nostre capacità per invadere il limite dell'altro o trasformiamo il limite dell'altro in luogo di accusa di aggressione di presa in giro e così passiamo la vita a difenderci o cercando di essere in qualche modo meglio degli altri dio si fa ultimo si fa nostro fratello perché impariamo ad accogliere il nostro limite e tendendo passo dopo passo alla crescita al miglioramento forti del suo amore incondizionato per ciascuno di noi non solo gesù si presenta in fila tra i peccatori lui il senza peccato si fa per noi peccato lui l'immacolato si immerge per santificare le acque per farsi carico del nostro peccato e tirarci tutti su questo anzitutto ci parla di uno stile di dio il signore gesù si mostra solidale con noi gesù come ha ricordato il papa non ci salva dall'alto con una decisione sovrana o un atto di forza no lui ci salva venendoci incontro e prendendo su di sé i nostri peccati ecco come dio vince il male del mondo abbassandosi facendosene carico e lo vedi lì in fila tra i peccatori tra quelli che si riconoscono bisognosi di perdono desiderosi di cambiare vita come a dire che proprio quella la coordinata dove possiamo incontrarlo nella nostra realtà nel nostro desiderio di cambiamento nel pentimento che ci apre al suo perdono lui è lì che si fa vicino non ci chiede prima di convertirsi per poi farsi vicino a noi la conversione non è presupposto ma conseguenza alla sua vicinanza e la risposta al suo amore che scopri nella tua vita e a volte lo scopri proprio nei momenti di fallimento nelle tue cadute quante volte sono proprio quelli luoghi dove ci siamo scoperti gratuitamente amati e scopri che dio ti ha al cuore anche quando tu non vorresti avere a che fare con te è solidale con noi proprio dove noi non siamo solidali con noi stessi nel nostro limite nel nostro essere comuni e anche nel nostro male il peccato dove noi ci dissociamo perché in qualche modo ci giustifichiamo sempre sono gli altri che sbagliano no gesù è solidale con noi anche lì era chiamato amico dei peccatori non perché andava a peccare con loro ma perché sapeva andare incontro tutti farsi vicino a tutti prendendoli dal punto in cui erano cercando di portarli a pienezza dunque coraggio caro fratello cara sorella se anche ti sentissi a terra se anche pensassi che non puoi toccare un punto più basso di questo se pensassi che dio è lontano e non ti ha a cuore contempla gesù che si mette in fila che si fa vicino proprio a te in questo momento che scende ancora oggi in basso sempre più in basso per tirarti su e gesù miei cari ci offre uno stile come persone come chiesa ci mostra il modo con cui anche noi possiamo sollevare gli altri non giudicando non condannando non intimando cosa fare ma facendoci vicini prossimi compatendo condividendo l'amore di dio come ci ha ricordato ancora il papa l'unico caso nel quale è lecito guardare gli altri dall'alto verso il basso e quando dobbiamo rialzarli e darci da fare per risollevarsi fermiamoci allora un po davanti a questa prima parte come si presenta il signore gesù qual è il suo stile facciamo ora un passino avanti e vediamo brevemente i tre versetti del battesimo di gesù gesù si immerge e riemerge dall'acqua anticipa così nel segno la sua morte e risurrezione questo indica la sua disponibilità ad andare fino in fondo a far la volontà del padre ad amarci sino alla fine ed ecco che su di lui si squarciano i cieli si ripristina in gesù la connessione tra dio e l'umanità interrotta a causa del peccato come nella morte gesù si squarcerà il velo del tempio così ora si squarciano i cieli in gesù possiamo contemplare chi è davvero dio e il suo amore per noi su di lui ecco posarsi lo spirito che in abita la natura umana ne prende dimora ed ecco la voce del padre questi è il figlio mio l'amato in lui ho posto il mio compiacimento queste parole che sono un intreccio di brani della scrittura e non abbiamo tempo di sviscerare ci dicono in semplicità che il padre ci dona la cosa più preziosa che ha suo figlio e il figlio si consegna per ciascuno di noi e questo figlio ha un segreto egli entra nella vita non come un supereroe ma come un figlio che si sa amato la cui vita è sostanziata dall'amore del padre ed è proprio questo figlio amato che vive questo stile di vita fraterno solidale obbediente colui nel quale il padre si compiace miei cari questa profonda bellezza portiamola nella nostra vita per riscoprire qualcosa del nostro battesimo dal giorno in cui siamo stati battezzati siamo stati associati alla morte risurrezione di gesù anche su di noi si sono aperti i cieli si è aperta dunque una relazione profonda con dio perché la nostra vita si è vissuta in comunione con lui anche su di noi è sceso lo spirito santo che ci ha inabitati perché il nostro nuovo principio di vita sia l'amore di dio lo spirito santo infatti da una parte infonde in noi l'amore di dio ci fa sentire e scoprire teneramente amati dall'altra parte muove il nostro cuore ad amare dio e gli altri ecco il nuovo principio interiore della nostra vita può essere lo spirito santo noi possiamo vivere secondo l'amore e anche su di noi il padre ha esclamato quella frase bellissima tu sei mio figlio amato tu sei mia figlia amata noi possiamo entrare nella vita e affrontare anche le cose più difficili non soli ma appoggiati su di lui sostanziati dal suo amore per noi sapendoci figli amati mai abbandonati sempre sostenuti che bello se potranno valere anche per noi le sue ultime parole in te nel tuo modo di vivere io mi compiaccio perché vedo che mi cerchi che cerchi la mia volontà che cerchi di essere dono per gli altri di farti vicino a chi soffre che vai in cerca di chi è perduto che non ti arrampichi a discapito degli altri ma vivi per servire gli altri vivere per dare gioia al padre cioè vivere sulla terra secondo il cielo vivere cercando di amare un po di più e sempre meglio ecco l'avventura meravigliosa del battesimo del nostro essere e vivere da figli di dio che il signore ci doni la grazia di riscoprirlo perché tanti anche attraverso di noi possano incontrare lui vedere qualcosa di lui e soprattutto sentirsi amati da lui che il buon dio vi benedica pace e bene a tutti